E' merito di tutti perché comunque facciamo un grande lavoro. No, loro sono il nostro dodgesimo uomo in campo, sono fantastici. Anche Amarassi e la gradinata Nord stasera sono pronti a spingere verso un orizzonte che al momento sembra lontano ma ancora aritmeticamente raggiungibile. E Portanova ringrazia, un disastro il Torino lì dietro e Portanova segna il gol dell'1-0 e il Genoa torna a muovere la rete dopo tre partite. No, ci stavo provando da un paio di partite. Sono contento che sia arrivato in questa partita fondamentale per noi. Gli ultimi dieci minuti che erano veramente tosti, loro a qualche punto sono impazziti tutti, sono alzati tutti. E' stata una spinta, proprio una carica energetica importante. Sì, è stato veramente bellissimo. Io ne ho viste tante di serate del Genoa, di serate vittoriose, però vedere proprio crearsi questo tutt'uno, questa empatia tra il pubblico, la panchina e i calciatori in campo è stato veramente straordinario. Grazie! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.